Sente adesso? Ecco. Grazie di essere qui per questo incontro che vogliamo presentare un'opera importante perché è la seconda opera che diriggerà Riccardo Schei della stagione, una nuova produzione firmata da Davide Livermore ed è un'opera che non è che si fa moltissimo, alla scala ha avuto peraltro i lustri precedenti, la diretta sia Roberto Abbado, sia Riccardo Muti, poi anche Enrico Mazzoli, una produzione per l'Accademia, però non è che è un'opera molto frequente, è un'opera che ha avuto un grandissimo successo quando è stata composta nel 1843 a Parigi per il Teatre des Italiens e allora ebbe un successo travolgente, pare che Donizetti l'abbia composta a tempi record, dieci giorni, non so se questa sia una leggenda, però c'aveva questa, del resto era la 71esima opera di 74, evidentemente aveva una facilità di composizione davvero rara. L'edizione che appunto vedremo alla scala avrà anche una diretta, lo dico perché sono sempre cose utili a sapere, una diretta su Radio 3 e poi verrà invece, si potrà vedere indifferita il 19 di aprile su Rai 5. Detto questo, e sono le cose un po' così diciamo di servizio, abbiamo qui la fortuna di avere il regista che Davide Livermore che forse avrete, se qualcuno quest'anno ha visto una delle più belle produzioni di Scaligere, il Tamerlano, l'ha sempre firmata lui ed era una produzione che chi l'ha vista sicuramente non la scorda perché aveva un impatto anche visivo straordinario, correva come un film ed è infatti, lui citava chiaramente molto immaginario cinematografico e anche qui, essendo un appassionato di cinema, il cinema in qualche modo rientrerà in questa sua visione, se però adesso magari ci racconta un po' come ha pensato. Sì, intanto buonasera a tutti, è un grande piacere, è un grande onore essere qua. Certo il cinema mi piace ma come mi piace mi piacciono tante cose, quindi non è un qualche cosa come dire legato a una passione personale particolare, per cui devo mettere il cinema per forza e in ogni momento. No, credo che però l'esperienza di quest'arte non possa essere scartata, non si possa fare finta che il pubblico, che tutti quanti noi dopo più di un secolo di esperienza cinematografica importante non abbiamo riferimenti visivi, non abbiamo archetipi, non abbiamo per esempio imparato, nel senso che abbiamo imparato a zoomare e lo facciamo con gli occhi, è un movimento di camera che ormai siamo in automatico, siamo capaci a fare, a prendere il dettaglio nel particolare, una cosa che anni e anni fa non avveniva, si guardava tutto in una, con una sorta di, eravamo delle telecamere fisse. E quindi l'esperienza del cinema è un qualche cosa che io riporto sempre sulla scena, indipendentemente da dove colloco la, o come credo sia giusto tradurre la partitura, anche proprio nel lato recitativo, perché quando due cantanti si baciano e devono fare, per esempio, o si ammazzano o si picchiano, perché si devono picchiare in scena, e devono fare, devono fare in qualche modo, devono considerare il fatto che il pubblico ricorda questo, o abbia visto questo, soprattutto al cinema. e quindi un bacio falso, un colpo falso, una situazione, un timing comico che in qualche modo potrebbe funzionare, o abbia potuto, ha potuto funzionare in tempi passati e oggi non funziona più, e non funziona più molte volte proprio per l'esperienza che il pubblico ha fatto. Io considero, cerco sempre di considerare quello che, in base a come cambia i lavori che faccio, perché cambia le partiture, partendo sempre da un discorso musicale, io non metto in scena perché, metto in scena un'opera perché vado, mi metto su una colonna e penso di essere questo genio che improvvisamente ha un colpo di fulmine e un'intuizione per cui adesso seguirà l'onda creativa, no, non esistono cose di questo tipo, credo molto di più al lavoro, qualche giorno fa mi facevo una domanda che era divertente, perché mi è stato detto, ma lei non ha paura di mettere in scena quel titolo, quell'altro titolo, quale titolo le può creare problemi? Io ho detto, nessuno, nessuno perché è la bellezza di non essere un genio ma di essere uno che lavora, essere uno che studia. Metto lì a studiare e fino a quando non ci cavo, non esce fuori il sangue dalla rapa, alla fine, e il sangue esce sempre dalla rapa perché ci lavoro, perché si possono fare dei piatti meravigliosi con il frigo vuoto, è vero, no? Lo sappiamo cucinare qualsiasi roba, arrivando alle due di notte c'è un pezzo di limone, la pasta d'acciughe vecchio e un pezzo di burro, viene fuori una pasta meravigliosa, lo sappiamo, lì dipende veramente da quanto uno ha voglia di fare il travette, nel senso di metterlo di coltivo. E qui quali sono stati gli ingredienti che ha trovato in frigo? Nel frigo è stata la partitura, cioè la partitura mi ha messo a disposizione una cosa straordinaria che è la commedia di mezzo carattere. Qui molte volte io ho letto l'opera buffa, Don Pasquale, la sovrapposizione di Norina con Colombina, di Scapino, Arlecchino e Pantalone con Don Pasquale, ma la testa è Ernesto. Non è vero, ci ho provato, veramente ci ho provato, ma non è vero, perché quando una partitura porta con sé il solo di tromba più straordinario della storia dell'opera, inizio secondo atto, si piangono tutte le lacrime che abbiamo, perché tutti quanti noi siamo partiti all'alba, perché tutti quanti noi abbiamo mollato qualche cosa o siamo stati buttati fuori da una situazione. E la cosa straordinaria della comicità di questa partitura è che è perfettamente contrapesata con momenti di verità, l'armoyant, eccezionali, e poi tutte le parti comiche sono parti comiche di situazioni, non di maschera. Quindi la commedia di mezzo carattere, diciamo che ha avuto come momento clou nel novecento il nostro cinema anni cinquanta, che è stato un po' un'incarnazione, ha avuto dei talenti che hanno saputo farsi interpreti di questa strada, che è a metà tra il riso e il pianto. Sì, è così, è così perché venivamo dalla guerra evidentemente e quindi c'era anche la voglia, c'era una voglia di vivere pazzesca che si sente in questa partitura. La partitura evidentemente non è stata scritta nel dopoguerra, ma è stata scritta nella fine della prima metà dell'Ottocento. Però gli ingredienti della commedia di mezzo carattere sono... Diciamo che era una francia alla vigilia dei motti del 48, quindi qualcosa forse si sentiva nell'aria. Può essere, però diciamo che la commedia di mezzo carattere in questo caso io mi sono trovato a usare gli ingredienti della commedia all'italiana, perché nella commedia all'italiana noi troviamo evidentemente la nostra comicità bidimensionale, quella buffa, la maschera di Totò, però ci troviamo anche e soprattutto invece la parte che... la comicità di situazioni e poi ci troviamo invece momenti di verità, momenti di commozione autentica, vera. Tornami a dir che mami a questo punto, cosa la devo considerare? Se mi metto a fare un... mettere in scena tutto un gioco di maschere bidimensionali in cui Colombini e Arlecchino ci possiamo andare a credere che quello è veramente... andare a credere come ci ha creduto Gaetano Donizzetti a quel momento d'amore straordinario, non ci crediamo più. E invece ci crediamo quando Marisa Allasio in Poveri ma Belli bacia il suo povero ma bello, di cui non ricordo il nome. Ci crediamo? Salvatore. Esattamente. E ci crediamo perché Salvatore... perché quel momento lì è un momento... è un momento che viene fuori da... è un momento d'amore che viene fuori da una situazione, da un contrasto, ti lascio, ti ripiglio, ti lascio, ti ripiglio in una serie di situazioni autentiche ma... ma a me... come dire... mi piacerebbe molto poter catalogare in maniera più definita quest'opera e dire... oh è un'opera buffa, la metto lì... però credo che tutti quanti noi abbiamo capito che quando ci mettiamo a catalogare le cose a tutti i costi nella vita lo facciamo perché abbiamo sostanzialmente paura di soffrire ma poi c'è la nostra cognizione di dolore che ci porta a dire non posso dividere la mia vita in buono, cattivo, buffo, comico, tragico e... o altro, non... è un bisogno di mettere ordine in qualche cosa che invece è la vita che molte volte ha dei contorni più sfumati e questa... e questa... e quest'opera ha una partitura straordinaria con contorni sfumati per chi vuole per forza andare a mettere... come dire... per chi ha la... la testa e il bisogno nella testa di poter andare a mettere un'etichetta molto precisa. Io credo che in questo caso abbiamo bisogno... se chi ha bisogno di un'etichetta gliela diamo, la commedia di mezzo carattere che è un... un'etichetta molto ampia... molto ampia, molto... sì... e... qualche... ecco, cosa... possiamo anticipare un po' cosa vedremo in scena perché l'azione mi pare... il libretto dice si svolge a Roma e Roma è la grande protagonista, l'altra grande protagonista di questa storia... quindi... però che Roma ha... ha immaginato? Io... ecco, una delle ragioni per cui abbiamo scelto insieme ai miei collaboratori, insieme a... a Gianluca Palaschi per i costumi, insieme ai Geoforma, allo studio Geoforma per le scenografie, ehm... Florian Boie e Cristiana Pico abbiamo... abbiamo scelto secondo noi l'ultima Roma possibile per questa partitura perché è una partitura elegantissima, perché è una partitura che ha dei momenti di... il duetto del terzo atto è finita a Don Pasquale e credo, credo che Schubert potrebbe crollare per terra e disfarsi in mille pezzi per nell'ascoltare una tale profondità di scrittura musicale di questo tipo, per la profondità della conduzione... è un duetto perfetto per la... per la profondità della conduzione emotiva, racconta una situazione di vita autentica come... come... ma come neanche il Verga nel... nel suo... nel suo... nella sua onda verista più estrema, eh... ed è questa la grandezza, no? E quindi la... la Roma che abbiamo voluto raccontare... la grandezza è la stessa e la... allo stesso tempo la... 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 la grande... la grande eleganza... la grande eleganza che c'è comunque... è una sorta di grande rispetto nei confronti delle emozioni di ognuno di noi, no? Non si... anche quando si fa beffe... ci si fa beffe della vita... lo si fa con un profondo... un profondo... c'è anche molta malinconia... enorme... enorme... sapete... conoscete la fotografia di Don... sapete che abbiamo... esiste un daguerrotipo di Donizetti... eh... del 1847... eh... io lo vedo... ormai lo... lo guardo... guardo questa fotografia... lo trovate facendo... daguerrotipo Donizetti col nipote... è straziante perché si vede un uomo morente completamente devastato dalla sifilide... con di fianco il nipote... e inizialmente mi è venuto un po'... mi sono venuti un po' inervi vedendo il nipote perché era come... un pochino come quando uno va... eh... al safari... no? che si fa fare la fotografia con di fianco l'elefante morto... eh... il fucile piazzato così... ehm... invece poi mi sono reso conto che era una... una crudeltà gratuita che avevo nei confronti di questo nipote... perché probabilmente invece era... anche il piacere di stargli di fianco... insomma... poi so che ci sono state delle... 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 delle situazioni poco piacevoli... indipendentemente da questo... ci siamo quattro anni... dopo la prima di... eh... di Don Pasquale... e... e quindi in qualche modo... non siamo lontani dalla fine... Don Pasquale un po' anticipa quasi una... una creatura morente... un... un vecchio che... sì... forse ha gli ultimi sprazzi... sì... gli ultimi sprazzi di vita... di vitalità... ma sulla scena... è vero... ma sulla scena... sulla scena... sulla scena troveremo anche un altro aspetto... e l'abbiamo voluto raccontare con la pantomima... una gran pantomima sull'over tour... è un... già già... immagino... ha presipario sull'over tour... però... che... che... che noia... oppure cosa vorrà raccontarci questo... no... abbiamo voluto raccontare... il perché... di cose che troveremo... e che troveremo non perché... le ho inventate io... ma perché... perché le vediamo nella partitura... la prima è... è una domanda che... retorica... che vi pongo... ma quando uno ha... 70 anni... desidera... una persona a 70 anni... desidera avere... moglie... e figli... perché non desidera... una situazione... una situazione... non so... una situazione... improvvisamente... desidera... matrimonio di compagnia... ma sì... non desidera... né un matrimonio di compagnia... né un consumare sesso... no... desidera veramente... far famiglia... vuol dire che... prima non l'ha fatta... no... vuol dire che... prima questo tipo di esperienza... non l'ha vissuto... e che... è una cosa che è sempre rimasta sospesa... e allora abbiamo voluto raccontare perché... e l'abbiamo fatto in maniera crudele... così come crudele questo scherzo... perché... ehm... ne parlavamo... ne parlavamo pochi giorni fa e... e... è vero che oggi non è più il tempo degli scherzi... oggi probabilmente il conte Mascetti e tutti gli amici miei... eh... sarebbero in galera... ma io sarei in galera... se oggi avessi 17 anni sarei in... penitenziario sicuro... e mia madre che in prima fila lo sa... perché io facevo scherzi... io facevo scherzi... mi svegliavo la mattina... e l'obiettivo era con i miei amici che facciamo stasera... e che facciamo stasera era... a chi... a chi facciamo uno scherzo stasera... ma con... i ragazzi a 15 anni... oggi... si ritrovano tutte le telecamere... a chi li fanno gli scherzi? cioè... vanno... è un tempo... è un tempo crudele quello di oggi... quindi... è solo un fatto di telecamera... o forse non c'è più quello spirito? ma... e lo spirito... già una telecamera me lo nega... e in più c'è anche la mancanza di futuro... perché quando uno fa scherzo... come posso dire... quando uno si mette a fare scherzi... e vive anche una... una pulsione per la vita... un desiderio... un desiderio che non è... come dire... solo distruttivo... ma è anche... è anche la condivisione con la vittima... in qualche modo... la vittima dello scherzo... è un po' complice... nel senso che va bene... a un certo punto... oggi arriverebbe l'avvocato eh... oggi arriverebbe l'avvocato subito... ci sarebbe una causa... siamo tutti arrabbiatissimi... i semafori già partono delle cose terrificanti... figuriamoci... figuriamoci... non lo so... ah... vedersi... vedersi... recapitare dei fiori... con una lettera anonima... che... che... una lettera d'amore... per esempio... dico la prima stupidaggine no... con... oppure... 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 un pacco con dentro amore... e ti... hai lasciato questo a casa mia... l'altra sera... e arriva direttamente nelle mani della compagna... ecco... robe che uno dice... e diventa... per far scoppiare dei micro... dei micro... dei micro... ciadelli... che è una parola... cioè... sarebbe un... una baruffa... ehm... comunque... in questo overtour... noi vedremo la causa... la causa... con questa pantomima... di quello che può essere questo trauma affettivo... perché evidentemente... se uno a 70 anni... desidera di sposarsi... non ha potuto farlo prima... ma non solo... desidera non solo la compagnia... desidera... desidera vederli... pargoli... perché lo dice... voglio vedere pargoli qua... pargoli là... voglio... cioè... ma se uno a 70 e rotti anni... si ritrova a desiderare di essere papagheno... non so... evidentemente non ha potuto farlo prima... noi lo vedremo... e lo vedremo nel giorno del... apriremo i sipari... e la prima cosa che si vedrà... sarà una bara... come posso dirvi... da torinese... posso dirvi che... il titolo di madama reale... l'abbiamo inventato noi... sapete perché esiste palazzo madama... perché madama reale non esiste... esistono le regine madri... ma la madama reale è una cosa diversa... ne... perché la madama reale... è proprio il prodotto del matriarcato pedemontano... perché il palazzo madama... che conoscerete a Torino... e quella magnificenza di facciata... fatta dallo Juvarra... all'inizio del Settecento... su quel rudere medievale... palazzo madama... è stato fatto perché madama Cristina di Savoglia... voleva vedere se i suoi figli prendevano la carrozzane... e io mi metto nel metodo della piazza... e voglio vedere... c'è il controllo assoluto... eh sì... c'è questo matriarcato piemontese... che credo non esista neanche in certi matriarcati... di tribù amazzoniche... perché quello torinese è veramente schiacciante... devastante... la mia mamma è torinese... ma ho un babbo che non lo è... quindi ci siamo salvati da tutto questo... ma mica... scherzo umano eh... e quindi saremo il giorno del... apriamo il sipario e si vedrà... la bara finalmente di questa donna... e si vedrà... durante l'over tour... che alterna... momenti in cui... possiamo sentire i temi che verranno poi sviluppati dopo... si sente la virtù magica... si sentono... i temi di Norina... i temi dello scherzo... i temi di Roma... i temi della primavera romana... i temi del... i temi musicali in cui... in cui... si vive... si vive quell'amore sfacciato... e quel gioco amoroso... quel meraviglioso gioco amoroso che... di cui canta... di cui canta Norina... Norina... ce la racconta... il suo manifesto ideologico è molto preciso... io so la virtù magica... la conosco... so come... so come fare... come strizzare un occhio qui... so come attirare l'uomo... so come fare innamorare le persone... ed è quasi un... è quasi come dire... potrebbe essere cantato... se potessi fare un film... non lo farei... non lo farei neanche... cantare da un... passerei con la telecamera attraverso Roma... e attraverso le donne romane... attraverso le gambe delle donne romane... che camminano per via del corso... cioè il vento... il vento che attraversa ad aprile... la città... ed è... la città meravigliosa... con la sua luce unica... e noi vedremo... e noi vedremo... il funerale di questa donna... e da lì... capiremo una serie di cose... capiremo... con i temi... di cui vi ho parlato... i temi della... della bellezza... che vengono poi ascoltati dopo... vedremo tutti i tentativi... i desideri di poter... vivere una vita affettiva... da parte di Don Pasquale... e vedremo anche come andrà a finire... è un riso che... vedendo le prove in scena... coinvolge tutti... ma è un riso... amaro... è divertente ridere in maniera amara... devo dire la verità... perché... c'è sempre un fondo di verità... che ci prende tutti noi... quindi... insomma... questa città... è una città veramente... in qualche modo... anche di dolce vita... non nel senso di vita... un po' birichina... ma è una vita... anche piacevole... c'è questo... questo turbine amoroso... che in qualche modo sentiamo... che percorre tutto... anche se tutto questo... poi viene convogliato... in una beffa crudelissima... assolutamente... perché... non so se è più crudele questa... la beffa di Falstaff... ma sono due beffe... siamo lì... siamo sempre due vecchi... che vengono... presi di mira... e quindi... questa beffa... è qualcosa di... di cattivo... che... che noi... che noi a volte guardiamo... anche quasi con imbarazzo... credo... no? e... mi accennava... l'altro giorno... diceva... in questa compagnia... di... c'è questo... questo medico... questa coppia... innamorata... così via... l'unica persona per bene... alla fine per me... è Don Pasquale... l'unico con cui uscirai a cena... perché... l'unico con cui uscirai a cena? ma perché... perché alla fine... lui pagherebbe il conto... è già qualcosa... è già qualcosa... perché gli altri... non pagherebbero il conto... per essere sicuro... e me lo farebbero pagare a me... perché... perché con gli altri... mi divertirei di più... però appunto... ci sarebbe il problema... il problema di essere fregati... in qualche modo con gli altri... perché sono veramente... una banda... una banda di mascalzoni seri... per cui... o mi metto a fare scherzi con loro... e esco a cena con Don Pasquale... che... così mi racconta... mi racconta delle cose tenere... estrugenti... oppure... dei lati così... un po' imbalsamati... di questa Roma nera... di questa nobiltà nera romana... che vive nei palazzi vuoti... e come... come dire... sempre come... con queste... con queste carcasse di pachidermi... eh... svuotati... svuotati dall'antica nobiltà... insomma... conosciamo... c'è questo tipo... è quella la Roma di Don Pasquale... insomma... la Roma di Don Pasquale... nell'evoluzione... eh... come dire... cinematografica... di quello che non è più... a quel punto... alla Commedia dell'italiana... ma è... ma potrebbe essere molto ben rappresentata... da Roma di Fellini... nella... nella... così... nella sfilata... nella sfilata del... di moda del... eh... clericale... insomma... ecclesiastica... ehm... non perché... perché... Don Pasquale è un... sia un sacerdote... un religioso... questo no... ma per far sentire questa maniera un po' conservativa... in cui... un mondo un po' che si autoprotegge... da cui lui poi cerca di venirne fuori... e ne viene fuori male... perché non è proprio la roba sua... non è proprio... non è proprio il suo ambito... non è proprio il suo cuore... una curiosità che abbiamo... già... già visto l'altro giorno... è che in scena ci sarà... una vettura... un'auto... un'auto che è stata iconica... di un periodo... che è... l'Aurelia... la famosa Aurelia... eh... eh... spider... dove... che tutti conosciamo... del sorpasso... dove Trentignan e Gasman... andavano... a rotta di collo... con tragico finale... e... qui... chi sale sull'Aurelia? sull'Aurelia... sull'Aurelia sale... eh... molto vicino all'Aurelia... tra l'altro... che adesso poi vi devo parlare... di luoghi deputati... sì... sale... sale Norina... sale Norina... e... l'auto in qualche modo... sarà un po' il mezzo... lo strumento... per fare un volo... dentro la sua... dentro il suo spirito... dentro la sua... eh... la sua bizzarria... la sua voglia di vivere... eh... e lo faremo volando... a volo d'uccello su Roma... insomma... perché... sarà un'auto magica... non c'è... un'auto... sì... è un'auto in quel momento... un momento onirico... non è... anche perché... quando... Norina si presenta... con la cabaletta meravigliosa... so anch'io la virtù magica... eh... il luogo deputato del libretto è... casa di Norina... quindi sostanzialmente... l'ambiente di Norina... quindi il suo mondo... ma il mondo... un mondo che canta l'amore come lo canta lei... evidentemente è tutta la città... e quindi... abbiamo voluto abbracciare tutta la città... e raccontarne lo spirito... per quello che la vedremo... volare sull'Aurelia... in un volo assolutamente interiore... un gioco teatrale che faremo... a volo d'uccello sul... sul Colosseo... sul Cupolone... su... ai Parioli... ai Gavarnelle... questo sarà... questa è la Aurelia... Parliamo un attimo di Norina... perché Norina è un personaggio sfaccettato... e... con diversi aspetti... perché ha quest'aria... eh... così innocente... tenera... però poi appena... eh... dice... il matrimonio... eh... scazzi... dice sì... al matrimonio... diventa di colpo una vipera... diventa una donna... cattiva... eh... anche violenta... gli dà uno schiaffo... a quel... a un certo punto... anche se... proprio... lo sbeffeggia... gli dice a Don Pasquale... sei un buffone... gli dà uno schiaffo... eh... uno schiaffo che fu... ai tempi... quando ci fu la prima... fu molto criticato... la gente... eh... trovò veramente... sconveniente... che una giovane donna... che doveva averla... alle tratti della gentilezza... della... dell'innamorata... eh... si... si lasciasse andare... un gesto così... ehm... volgare... alla fine... no... e quindi... ci fu un po'... dei malumori... su questa cosa... e ancora adesso... ci dà un po' fastidio... questo schiaffo... perché è un po' gratuito... sembra che infierire... no... lo schiaffo è perfetto... lo schiaffo è perfetto... ed è perfetto in quel momento... momento... drammaturgico... conoscete... eh... l'espressione... jump the shark... saltare... saltare lo squalo... è stata coniata... all'inizio della quinta... stagione di Happy Days... che in quel momento... aveva il massimo successo possibile... eccetera eccetera... eh... l'inizio di quella... di quella puntata... fu fatto... fu fatto filmando... credo... Fonzi... che a un certo punto... era uscito il... il film di Spielberg... lo squalo... saltava addirittura... lo squalo... senza farsi nulla... e quello... ha fatto in modo... che tutta la serie... che diventasse l'ultima serie... perché da quel momento in avanti... Fonzi... che ci faceva molta simpatia... era diventato... è diventato... il... un personaggio orrendo... adesso basta... è esagerato... adesso è troppo... e lei proprio fa... il jam the shark... nel momento... nel momento in cui... dà la sberra... la sberra è perfetto... perché ci fa vedere... un aspetto... l'abbiamo... l'abbiamo provato... perché ha fatto scherzi... o li ha subiti... c'è un punto... in cui ci fa male... ci ha fatto... ci ha fatto male farlo... o riceverlo... in cui ci siamo resi conto... che la... 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 la corda si è troppo tesa... e in quel momento... giustamente... Norina... diventa antipatica... diventa orrenda... diventa orrenda... diventa orrenda... perché ha continua... perché continua... e lo farà anche dopo... a beffarsi... a beffare una persona... che... che sta mostrando... cantando quello che è... il duetto... è finita Don Pasquale... cosa succede in musica... è... è un miracolo... cosa succede in musica... è... qualche cosa di... 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 di straordinario... dopo la sberla... si apre... semplicemente... un... un baratro... e... musicalmente... andiamo a finire... dentro il dolore di Don Pasquale... come se facessimo... da quel momento in avanti... un close up... un primo piano su di lui... e lui piange... e lui piange... e lui piange... si commuove... e... e sta pensando... 70 anni... ho avuto un momento di vitalità... uno... nella vita... in questo momento... ho... ho capito che ho perso tutto... ho sbagliato tutto... e lei diventa quello che è... una persona che insiste... continua... sapete quando... quando... quante volte... reiteriamo... una modalità... un concetto... e questo ci rende... ci rende antipatici... io che ho la... che sono verboso... molte volte... e molte volte... reitero lo stesso concetto... mi rendo conto... che a un certo punto... mi sto annoiando... pure io parlando... perché poi ho capito... immagino poi gli altri... quando vanno dall'altra parte... quando penso di andare dall'altra parte... capisco che... la punizione che sto infliggendo... lei... continua... insiste... non molla... o... scusate... pur con un momento di... strano... e meraviglioso senso di colpa... di cui poi non si pente... perché... ed è lì... viene fuori la meravigliosa... e crudelissima... cattiveria... tra virgolette romana... sono figlio di romano... quindi posso parlare... di... perché... perché c'è questa... perché... questa psicologia di... 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 questo mondo che ha già visto tutto... quello mondo che se frigni... dai su... sta frignata... vabbè... ho fatto... ho fatto una cattiveria a un vecchio... dai... c'è un cinismo... c'è un meraviglioso cinismo... è intelligente... è cattivo... è solforoso... è viva... è viva... non è buonista per niente... è un mondo oggi... dove... oh mi... non posso... mia madre si chiama negro... non posso... la chiamo di colore... né... mia madre si chiama... si chiama Maria Pia Negro... e io la chiamo Maria Pia di colore... perché mi vergogno... perché non... non si sa mai... siamo dentro tutto questo mondo... oh mi prego... politicamente corretto... sì sì... io sono diversamente magro... eccetera... mi spiace... non... non ce la faccio più con il politico lì corretto... veramente insopportabile... insostenibile... non parliamo... non parliamo poi di... non poter far morire Carmen... a teatro... perché lì... da quel punto lì... io semplicemente... prendo e vado... cambio mestiere... faccio un altro mestiere... vado... ma proprio... vado su Alfa Centauri... perché è meglio... noto... una vena... un tocco molto politico... no ma di amore profondo... di amore profondo per la nostra cultura... per l'opera... per il teatro... perché abbiamo... perché non c'erano... non c'era... la vendita dei materassi... ad educare... ad educare generazione... agli affetti... era la letteratura... ed era l'opera... ed era l'arte che educava... all'affettività... e allora se invece... educhiamo all'affettività... con la vendita dei materassi... con la... con la televisione spazzatura... è chiaro che poi dopo... ci mettiamo a fare... cose strane... sull'amore... Lei ha detto una cosa... l'altro giorno... che mi è molto piaciuta... ha detto che... quello che manca... nella nostra scuola... parte dell'educazione musicale... che sappiamo... è... anche una conoscenza... di quella che è... una parte della nostra letteratura... ovvero... i libretti d'opera... punto... noi parliamo italiano... e quanti di voi... scusate così... quanti di voi pensano in italiano... e quanti in dialetto? perché mi penso in dialetto... hai un momento... che proprio... parli italiano... no? voglio dire... quando mi ritrovo... per esempio... a insegnare... a insegnare il canto... a cantanti... a cantanti... sono straordinari... meridionali... nel sud dell'Italia... tutti pensano in dialetto... e infatti... quando pensano... quello che stanno dicendo... in italiano... lo fanno... in maniera generica... io mi ricordo... per me è stato un... è stato un momento... un'intuizione... una ragazza siciliana... che non... che avrà sempre tutta la mia gratitudine... che mi cantava... sposa... son disprezzata... fida... eccetera... dicevo... dai... mi fai... sì no... ma io mi sto impegnando... sposa... e ho detto... basta... me la dici... in siciliano... lei ha cominciato a dire... le parole in siciliano... traducendo il libretto... le venivano fuori... delle lacrime così... per chi ci stava credendo... e quando l'ha cantata in italiano... era una... devastazione per tutti... perché la stava pensando... con la verità del suo dialetto... che era la sua lingua... e... e l'italiano... dei libretti d'opera... è stato l'italiano... che ha messo insieme... i nostri dialetti... perché raccontava la bellezza... io trovo... molto penalizzante... per esempio... una gran parte... dell'italiano... l'italiano televisivo... è proprio... brutarello... l'italiano... l'italiano... usato... a volte anche nel... a volte nelle traduzioni... di teatrali... o a volte anche nei libretti... delle opere contemporanee... trovo che l'italiano... abbia questa capacità straordinaria... di poter raccontare la bellezza... o l'orrore... attenzione... la bellezza non è... non nell'accezione... del politically correct... ma la bellezza... nel senso più lato possibile... e quindi... quando ci troviamo... per esempio... non so... passami il sale... per piacere... Giovanna... ecco... una comunicazione normale... in italiano... messa su un teatro d'opera... per esempio... io la vivo in maniera... difficoltosa... per la bellezza... e la capacità... che la nostra lingua ha... invece... di raccontare delle cose più sublimi... noi nel quotidiano... vince l'inglese... ci fa... ci vince... proprio dieci lunghezze... scusate... sono nipote di Fantino... quindi io parlo sempre in termini... vinci... dieci lunghezze vince... 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 per forza l'inglese... i libretti d'opera... sono patrimonio totale... della nostra cultura... sono... eh... è una vergogna... che... eh... nelle scuole italiane... non si... non si insegni quello che è stato... il più grande contributo... alla cultura mondiale... uno dei più grandi contributi... alla cultura mondiale... che l'Italia ha prodotto... i libretti d'opera... esiste... se all'Indiana University... fanno... fanno dei... dei corsi in italiano... partendo... partendo dai libretti d'opera... infatti è meraviglioso... lavorare con tantissimi cantanti americani... che ti dicono... scusa... in Talguisa... dovrei fare... si... hanno imparato l'italiano... sì... oppure che ti dicono... eh... non mi sento tanto bene... hai lasso... questo oggi... è molto divertente... ma è... eh... devo dire che... è molto bello... è molto bello... è molto emozionante... perché insomma... per chi fa questo mestiere... diventa... diventa interessante... vedere... la differenza tra come è considerata... la nostra arte... qui... o altrove... anche perché... all'Indiana University... ci sono mille... uno zero zero zero... allievi di canto d'opera all'anno... che si scrivono... o di storia dell'opera... eh... per dire... poi... magari nessuno farà... nessuno farà carriera... va bene... però magari ne farà carriera uno... e sarà un gran cantante... però c'è una grande curiosità... però c'è una grande curiosità... l'opera fa sold out in tutto il mondo... perché? perché è bella... punto... ma non si discute... attenzione... su questa roba... non si discute... non si può discutere... perché non è entertainment... non possiamo... il grande errore che è stato fatto... a un certo punto... nella comunicazione... è stato dire... mettiamo... sai... l'opera non tira... ma non deve tirare l'opera... non è quello... noi non dobbiamo vendere biglietti... non dobbiamo fare l'errore che ha fatto la Rai... quando è arrivato Mediaset... dicendo... mettiamo anche noi le pubblicità in mezzo... no... noi non dobbiamo... noi non dobbiamo... non dobbiamo metterci a lottare contro... l'ultimo film di Spielberg... non è quella roba lì... è un'altra cosa... è un'educazione ai sentimenti... agli affetti... all'affettività... agli affetti non... in senso molto lato... è quella cosa lì... uno non si mette... uno non si chiede... se è bella o non è bella la Cappella Sistina... allora uno... perché uno deve mettere... deve dire... mi piace o non mi piace... mi piace o non mi piace... la pietà di Michelangelo... lo abbiamo mai detto... no... non possiamo dire... mi piace o non mi piace Nabucco... mi spiace... no... non possiamo dirlo... è quella... l'educazione che deve passare... è parte del nostro DNA... insomma... sono arrivati... per la prima volta... eh... i diritti delle donne... eh... i diritti delle donne... che... per un istante... è stata una donna... Olympe de Gousse... che ha dato... queste... per la prima volta... i diritti alle donne... anche per esempio... di divorziare... che è una cosa fondamentale... importantissima... la donna si sentiva... in grado di poter... tenere... eh... un ruolo diverso... in società... infatti lei... tiene testa... a... a Don Pasquale... è il motore di questa burla... insieme al... al medico... e... d'altra parte... però è vero che siamo anche... ormai già... nella restaurazione... per cui... questi diritti delle donne... sono stati... prima approvati... e già poi... eliminati... perché... eh... se non sbaglio... eh... il codice civile... 1816... dice... dice che la donna... deve obbedire al marito... e che... non ha diritti... al pari di... i minori... i criminali... e i mentecatti... cioè... è stata... era... era così... a quella... a quel livello lì... quindi... c'erano queste due visioni... molto ravvicinate... molto... diverse... c'è stato un momento di grande slancio... e di apertura... quasi un proto-feminismo... e poi c'è stato un immediato... ritorno... certo... in qualche modo... lei incarna questi due aspetti... sì... lei incarna questi due aspetti... ehm... devo dire che non è... alla fine... ehm... denunciando così tanto... la purla che andare a fare... la sua credibilità... come... come possiamo dire... come eroina... femminista... proto-feminista... la perde subito... perché... ehm... non è poi quello... poi... non è più quello il focus... il focus è spilare dei soldi al vecchio... allo zio... di quello che io voglio sposare... e quindi... è vero che... questo... eh... questo aspetto c'è... ma è triangolato... non arriva mai... eh... direttamente... è triangolato dal fatto che... possa esserci la burla... in mezzo... sì... lo sappiamo perfettamente... con per esempio la Cecchina... ovvero la buona figliuola di Piccini... che nel... eh... non mi ricordo... l'anno del Settecento... quando... ehm... quando... che fu la più grande... stiamo parlando... credo degli anni Cinquanta del Settecento... forse il Sessantadue... non mi ricordo... ehm... fu un'opera rivoluzionaria... semplicemente perché... aveva... ehm... era una marchesa... era una nobile... e la protagonista era invece una serva... e... tutto il tifo andava sulla serva... e quindi... i teatri erano pieni ovunque... per di... di persone che finalmente potevano anche solo... medesimarsi... medesimarsi... anche solo fare pugnetto... sì... quando c'era... quando c'era... quando c'era... quando alla fine c'era il trionfo del... dell'animo... e dell'animo della Cecchina... ci sono stati tanti momenti di questo tipo in cui... ehm... evidentemente da un punto di vista... sociale... istanze della società che venivano raccolte... istanze femministe che venivano... femministe... proto-feministe naturalmente... eh... venivano raccolte da... dall'arte e fatte diventare... eh... in questo caso opere... io credo che l'aspetto... l'aspetto di Norina... per chiudere... insomma... il discorso su di lei... eh... non avvenga mai in maniera cosciente come personaggio... non... eh... non è un discorso... gliela faccio pagare... perché voglio in qualche modo... eh... mostrare al mondo che... cioè... in quanto donna... ho un potere... ho una capacità... ho un'intelligenza... pensa che Donizzetti ha tenuto un po' conto di Rosina... del barbiere... o forse no? eh... non c'è una... hanno due valenze completamente diverse... perché... è vero che il barbiere è una sorta di... facciamoci una risata sulla rivoluzione francese... va... facciamoci una risata perché ci siamo spaventati tutti assai... allora stavolta... vi facciamo un po' marce... sì ma ridiamo un po'... ecco... quello è quello che io sento in... il senso dovessi avere... tenere un corso sul barbiere di Siviglia... e comincere così... fammoci una risata... perché... perché di sangue ne è passato tanto... e... in questo caso non c'è nessuna istanza... nessun... nessun retrogusto politico... e... sì però c'è da dire che il fatto che... come dire... la tipificazione di una donna interessante... di tipificazione di donne interessanti... non è che ce ne siano tantissime... parlo dal punto di vista della... dell'essere... dell'essere... capaci di tenere testa a uomini... di organizzare... in questo caso scherzi... di poter vincere... in questo caso in modo cattivissimo... ma di vincere una situazione... la situazione la vince lei... chiaro... eh... direi che un cenno bisogna farlo anche agli altri due protagonisti... come? l'innamorato Ernesto... e il medico... un po' mascalzone... imbroglione... ma la testa... sì... prima di parlarvi di loro... volevo finirvi... brevissimamente il discorso sui luoghi deputati... perché... l'ho cominciato e l'ho lasciato per aria... quindi... vi ho raccontato... due luoghi deputati... tre luoghi deputati nel libretto... casa di lui... casa di lei... e... un giartino... casa di lui sarà casa di lui... la sintesi sarà il teatro di Marcello... il teatro di Marcello è... il luogo per me più significativo... che mi racconta di più Roma in assoluto... un ex teatro che... si riempie... si stratifica di umanità... e di vita... quando smette di essere teatro... e quindi abbiamo gente... abbiamo... gente che vive... muore... si ama... si tradisce... si odia... si detesta... e si riama... e rimuore... rinasce... da... dal sesto secolo... immaginatevi che... che popò... e quindi con il fatto che questa... che questa casa continua a cambiare per... di arredamento dal sesto secolo ad oggi... quindi ci troveremo l'interno di casa di Don Pasquale... al teatro di Marcello... un interno assolutamente ottocentesco... che poi trovi... che poi lo troviamo fino agli anni 50... la casa di... la casa di Norina... e poi su un... un impianto scenico... che potrà darci la possibilità di vedere anche l'esterno di questa casa... la casa di Norina non sarà casa di Norina... come vi ho raccontato... sarà invece tutta Roma... noi vedremo questo... vedremo... cercheremo di raccontarvi questo... e poi... il terzo è il giardino... il giardino non sarà il terrazzo... la terrazza di casa di lui... sarà... sarà raccontato il tempo in cui Roma... visto che siamo negli anni 50... non ha più paura delle ronde fasciste... non ha più paura dei bombardamenti anglo-americani... e la Roma che comincia a poter... la Roma dei giardini dove... dove... si andava a fare all'amore... insomma... all'amore nel senso... nel senso appunto di... di giocare all'amore... con tutto quello che comporta... in un senso o nell'altro... ma di fare all'amore... e quindi andare a... a... a prendere possesso di luoghi dove poter... dove poter incontrare... dove poter... dove poter sognare... dove poter consumare... ecco... invece... per quanto riguarda... Malatesta e Ernesto... allora... Malatesta... Malatesta probabilmente in tutto questo... è quello più vicino alla comedia dell'arte... però è talmente tanto forte... la... come dire... l'introspezione musicale di Donizetti... che anche lui... poi alla fine non può essere considerato... lo scapino di turno... eh... e diventa... diventa un personaggio... semplicemente un... 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 ed è... ed è naturalmente Norina che ha... con cui poi attua... attua la... la beffa... diciamo che nel mondo del... della commedia all'italiana... che andiamo a mettere in scena... quanto... quanto Alberto Sordi abbiamo visto... ma anche... Ma non solo, insomma, potrebbe essere, per come lo stiamo mettendo in scena, potrebbe essere il mio amatissimo Walter Chiari, il mio amatissimo non ho mai conosciuto. C'è un impunito. Sì, c'è un impunito, uno che è capace di creare, di inventare, con questa voglia di sopravvivere alla vita, con questa voglia di... L'essere impunito ha una parte meravigliosa, che è quella che ci dice sostanzialmente il mondo mi si cambia davanti e sotto i piedi e io resisto. E io cambio il mondo e io ce la faccio a cambiare me stesso in base a quello che succede o cambiare il mondo in base a quello che sto creando. Insomma, è un grande acrobato della vita ed è molto divertente. Ha qualche parentela con Dulcamara, visto che sempre Donizetti si tratta? Diciamo che Dulcamara, se dovesse rimanere sempre nello stesso ambito cinematografico... Chi sarebbe? Lo sceico bianco. Sarebbe assolutamente sorti dello sceico bianco. Cioè una cosa più favolistica, più incantata. Sì, sì, è uno che potrebbe essere portato con il carro di Zampano e Gelsomina, ma è nelle fiere. Fiere che poi tra l'altro io me le ricordo a Pinerolo negli anni 70, dove c'era quello che spezzava la catena. E quindi in momenti non siamo... Pari pari. Sì, non siamo tanto lontani. E la tromba di Gelsomina. E la tromba di Gelsomina. Questo apropolito della tromba che diceva prima. Sì, in questo caso la tromba non sarà quella di Gelsomina. Io farò sulla solo di tromba del povero Ernesto all'inizio del secondo atto un regalo, un omaggio che spero di fare a voi, che farò, ho fatto a me stesso, ma che voglio condividere. Che è una piccola scena, una piccola scena, un super cadeau della Dolce Vita. Il clown nel nightclub che fa un numero bellissimo con dei palloncini, tristissimo guarda a un certo punto un Marcello Mastroianni che sorride al tavolo, ma a un certo punto incontra gli occhi del clown. E il clown gli ricorda quanto è disperato. E un po' capiterà questo con Ernesto. Non saremo nella casa di Don Pasquale, saremo dove partono tutti gli uomini, dove si parte negli anni 50, dove si vive il vero distacco, la vera... Come dire, dove... Sì, è proprio il teatro della partenza tragica anni 50, del distacco, la stazione. Si parte all'alba e non si salutano gli amici, quello l'ha fatto mio babbo, perché per tutta la vita mi ha parlato dei suoi amici di Roma, ma non ne ha mai parlato, non ne ha mai incontrati, non ne ha più incontrati. Poi i vitelloni. Sì, sì, ma infatti conosco molto bene i vitelloni perché mio padre odiava Fellini ed era uno dei vitelloni più meravigliosi, per le cose che mi raccontava, le burle, le beffe, il gioco continuo. E Ernesto in fondo è un po' vitellone. Sì, Ernesto è uno che vive a casa dello zio, allora non dimentichiamoci questa cosa, quando lo si fa diventare primo amoroso... Si è piazzato lì. Ma no, si è piazzato lì e quando lo facciamo diventare primo amoroso, i sentimenti eccetera, è uno che gioca ai gapanelle e perde i soldi dello zio. Va a giocare ai cavalli, perde i soldi dello zio, gioca il totipo, il totocalcio, è della Roma o della Lazio uguale, non importa, ma è veramente un personaggio di una superficialità nella vita terrificante. Poi quello che vive per l'amore per Norina c'è. Norina ne farà un boccone. Probabilmente, però gli piace, però gli piace un mucchio, è uno di quei rapporti per cui quando si guardano le persone, è raccontato così bene, quando guardiamo l'altro è, che te farei? Perché è giovane. Perché è giovane. Mi fai perdere la testa, non capisco più, è veramente, sono sotto morfina di cupido. Appena verrà su un po' di pancia, è finito. È sicuro, può essere, può essere, la superficialità, anche se noi, come dire, siamo molto divertiti a giocare sulle pance, ma questo poi non lo vedrete. Senti, un'ultima cosa che, vabbè, facendo un piccolo gioco, a si pari ho chiuso e se dovessi, hai fatto un prequel, facessi un sequel. Cosa pensi che potrebbe accadere in questa famigliola stravagante che si formerà? Si informa questo, che dopo nove mesi lei rimane incinta, lei rimane incinta e poi probabilmente per chi ha tanto da fa lascia sto ragazzino, lo lascia Don Pasquale. Non gli piaceva il ragazzino? No, beccate il ragazzino. E quindi secondo me Don Pasquale diventerà uno zio, nonno, papà meraviglioso. Quindi c'è un happy end per lui. Avrà quello che vorrà. Sì, secondo me sì, disponda e forse anche in maniera giusta, a 75 anni, forse potrebbe essere molto bello essere nonno. E lei continuerà a dilapidare? Ma lei continua a dilapidare, lei... non lo so se le continua a dilapidare, perché lei non dilapida, lei fa dilapidare lui per convincerla a mandarla fuori di casa. È tutta una burla, cioè lei non fa mai nulla veramente. La cosa vera, che mi piace anche lì considerare, il momento vero è il tornami a dir che mami. Questa è la grande verità di Ernesto e di Norina. Si amano, lei comunque accetta di fare gli scherzi, lo scherzo terribile perché c'ha il pello per poterlo fare, sul cuore. Per poterlo fare, va bene, ma poi comunque quel sentimento è autentico ed è verissimo. Mi sarebbe piaciuto molto dare il primo bacio della vita sentendo quel duetto. E non ti amo di Umberto Tozzi. Invece ho sentito ti amo di Umberto Tozzi. Però insomma non era maglia. Vabbè, no, non era maglia, è una bella canzone. Un giro di do banaletto, però ho fatto bene. Viva Umberto Tozzi che era torinese, torinese anche lui. C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda magari? Vedo, signora. No, signore. Non ho bisogno, no, no, non ho bisogno di microfono. Oh, una voce che corre. Sono qui, sono qui, ringrazio di questa tessitura di Don Pasquale che è stata l'opera che mi ha avvicinato alla musica. Prendevo spunto dall'Aurelia B20 o B22 perché c'è la spalla. Ricordo 15-50 anni fa la scala, non ricordo il modicista ma il libretto era di Moravia e arrivo a una macchina su bancoscenico. avvenne una scena, adesso i tempi sono cambiati anche alla scala ma io ragazzino non dico che fischiamo perché anch'io sono come lei uno da scherzi e non invecchiamo mai. La terza cosa, e poi c'è la domanda, la terza cosa è giusto, difendiamo la lingua italiana. Non molti sanno che in orchestra, e anche uno direi delle cose che faccio, le indicazioni vengono date in italiano. Io non dico schnell o langsam, dico moderato, piano, forte. Ed escluso Wagner o Mahler, anche Mozart o Beethoven scrivono accelerando, e si può permettere, cosa che vedo anche all'università, con duelle, ma si chiamava Beethoven, non si chiama Mozart. Quindi le indicazioni vengono fatte in italiano. Questa era, direi, la difesa della nostra lingua e l'opera. Noi siamo, se lei è a Tokyo, non diranno, lei è di Milano? Ma non diranno il Duomo, ma diranno la scala. E questo è fondamentale. La domanda invece era questa. Sul libretto, sappiamo Ruffini, non Ruffini, poi chi ci ha messo le mani? Mi sembra il libretto di Manon, dove tutti ci hanno messo le mani, compreso Ricordi. Credo soprattutto poi alla fine, credo il colpo definitivo l'abbia dato Donizetti stesso. Questo è sicuro. Ma poi, io ho fatto un film nel 2011 per la televisione svizzera italiana, che dà il titolo Viva Verdi Giuseppe, come perché l'opera fece l'Italia forse. Questo era il sottotitolo. E insieme ad Alfonso Antoniozzi interpretammo una cosa come 50 erotti personaggi, tra cui un'intervista doppia in cui lui faceva Metastasio e io facevo Francesco Maria Piave. Questa intervista doppia, che potete trovare anche in YouTube senza problemi, è stata presa dall'Università di Hamburgo e questo film è stato preso dall'Università di Hamburgo e viene costantemente stato comprato anche in RAI, dato su RAI 5 eccetera. Ma viene usato nei corsi di storia della musica per spiegare la differenza tra il librettista ottocentesco e il librettista settecentesco, dove appunto ha la domanda quanti musicisti, e Metastasio diceva, musicisti, ma che me frega, la musica è solo roba di sottofonte, dagli dei tacchi, dagli dei punti, ma che me porta a me, eccetera. E io invece facendo il Francesco Maria Piave dicevo, musicisti, beh, musicisti, uno Giuseppe Verdi e la signora Giuseppina, grande cantante, come nel tragico, come nel comico, nel senso che il rapporto che evidentemente il librettista aveva nell'Ottocento, poi nel tardo ottocento maggiormente, con il compositore, era chiaramente di servizio profondo per quello che era la composizione musicale. Non era il Metastasio che scriveva i suoi drammi e poi dopo venivano musicati da, come è capitato a Metastasio, da più di 80-100 musicisti. Evidentemente c'era un librettista che si riferiva in maniera totale e il librettista usava le intuizioni letterarie e a volte le modificava. I doni Zetti sicuramente aveva un'esperienza tale, ormai nel 43 ed era chi era, insomma. Aveva un senso della profondità dell'animo umano che doveva naturalmente piegare il libretto alla sua volontà espressiva. Grazie. Non era risposta, Boito cambia molto. Vabbè, sì, cambia molto Boito, però che atto d'amore fatto Boito, che momenti pensare a Boito e Verdi, veramente da brivido. Altre curiosità? Signora? Non ho capito il titolo dell'intervista doppia. Intervista doppia, il titolo del film è Viva Verdi Giuseppe, Vipa con W, Verdi Giuseppe, Verdi, virgola Giuseppe, punto esclamativo. Lo trova online sul sito della Radio Svizzera Italia, Radio Televisione Svizzera Italiana, quindi RSI, se mette, lo trova. Non le so dire esattamente a che minuto lo può trovare nel... Però già che c'è, sia un'ora e venti, si vede al film. È gratis. Bene, grazie e buon Don Pasquale per chi andrà a vederlo. Grazie.